Lunedì iniziano le scuole e lunedì verranno pubblicati bandi regionali rivolti alle scuole per una buona educazione e conoscenza alimentare. Può sembrare banale, ma la scuola, che è il luogo della formazione anche dei bambini, può e deve diventare il luogo dove i bambini imparano come si mangia, quanto si deve mangiare, qual è il cibo prodotto nella loro terra e questo è un contributo che noi vogliamo dare a un'idea di scuola che forma la persona, che insegna la nozione didattica, ma insegna anche a vivere alla persona e soprattutto un contributo che noi vogliamo dare, mi permetto di dire anche alla prevenzione, alla prevenzione del male o di una crescita sbagliata. Prima si facevano politiche che partivano da qui, ora si fanno i bandi, vogliamo ascoltare le associazioni, le scuole, i professori, i bambini, la loro creatività e quello che fa la regione è mettere a disposizione risorse. Lo fanno molte regioni italiane e vogliamo farlo anche noi, anche perché questa è la sede, il Lazio della FAUD, del World Food Programme, e cioè le grandi organizzazioni internazionali del mondo che si occupano di cibo sono qua. Ecco, dobbiamo, io lo dico sempre, essere più sistema e questo è un modo di esserlo. Grazie.